Il momento è difficile per tutti, però c'è da fare un ragionamento sulla situazione di chi vive una malattia importante come può essere una malattia del sangue, questo vale anche per altre patologie. I pazienti sono immunodepressi e quindi sono molto più a rischio di tante altre persone. È fondamentale non interrompere le terapie, garantire in totale sicurezza tutte le cure e i controlli che queste persone devono fare. Per questo avete istituito una campagna importante per la raccolta fondi. Esatto, non potendo scendere in piazza si può aiutare in questo caso la sezione di Firenze in due maniere, donando tramite sms solidale o da rese fissa al numero 45582 si può decidere di donare da 2, 5 a 10 euro e il contributo servirà a sostenere direttamente l'assistenza domiciliare. Oppure, essendo in periodo natalizio e quindi anche in periodo di legali, chiamando il numero 333 4406066 si potrà ordinare un gadget natalizio che può andare, chiaramente fino all'esaurimento scorte perché ci stiamo avvicinando a Natale, si può andare dalla stella di Natale che vedete qui alle mie spalle con un contributo di 12 euro, alla stella di cioccolato realizzata dall'azienda di cioccolato Venchi o le palline di Natale da albero. Una cosa importante, abbiamo raggiunto a livello nazionale un accordo con Amazon e quindi la stella di cioccolato può essere ordinata sia tramite la sezione al numero di cellulare indicato prima che direttamente da Amazon con un piccolo contributo per la spedizione.